In fila indiana, con piccole luci ad illuminare il sentiero nella notte, immagini suggestive quanto magiche, quelle di cui hanno potuto godere i partecipanti alle escursioni notturne nella gravina del Fullonese. Per l'esattezza 419 i fruitori del percorso esperienziale Cursic Experience, nei mesi di luglio e agosto, facendo registrare il tutto esaurito, una risorsa cittadina vista sotto una nuova luce, nell'ambito di un progetto che ha declinato insieme elementi naturalistici, storici e suggestivi, intrattenimenti musicali. Il fruscio del vento, lo scricchiolio degli alberi, l'intenso profumo del timo, i richiami dei volatili notturni, sono stati i compagni di viaggio in queste notti estive, che hanno regalato a visitatori sensazioni completamente diverse da quelle che caratterizzano un trekking con la luce del sole, un'immersione notturna tra suoni e profumi della macchia mediterranea, immediatamente al ridosso del centro abitato. Una gravina lunga quasi un chilometro e profonda fino a 25 metri, cesellata da grotte scavate nella roccia, cuore di un insediamento rupestre frequentato fin dal 200. Il Cursic Experience è stata un'esperienza multisensoriale, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Grottaglie, il gruppo speleologico Gruppe Grotte Grottaglie, le guide ambientali escursionistiche delle IGAE, Sandra Santoro Glemurzebent, la cooperativa Imago.